La fiera di Lanciano alla sessantesima edizione è un modo per incontrare chi negli anni lavora con la vostra azienda ma anche la possibilità di incontrare nuovi possibili clienti futuri Certamente, per noi è sicuramente un momento di incontro con i nostri clienti storici, fidelizzati ma anche per farci conoscere da nuovi possibili clienti Un'azienda abruzzesissima che si trova a Pescara, voi fate assistenza e non solo ce lo spiegherai tra poco di bilancio e soprattutto bilancio industriale Certo, bilancio industriale è il nostro target, quindi lavoriamo in tutti i settori perché le bilancio per nostra fortuna sono presenti un po' ovunque e ci occupiamo sia della vendita per conto di cooperativa bilanciai che la nostra fabbrica che è a Modena e poi facciamo l'installazione, l'assistenza e le verifiche metriche periodiche, quelle di legge e quelle per la qualità Ecco, siete in fase di attendere risposte, sicuramente saranno positivissime e andrete avanti anche con questi sistemi di accreditamento Certo, sì, adesso siamo in l'ultima fase di accreditamento con Accredia per poter continuare ad eseguire queste verifiche metriche per conto della Camera di Commercio Ecco, una fiera che è arrivata al sessantesimo anno di vita il Presidente ha detto che è una fiera che si lancia verso il futuro, anche il vostro lavoro ovviamente va verso il futuro e com'è cambiato allora il lavoro di chi poi lavora tutti i giorni con le bilancio? Certo, per noi essendo un'azienda storica è cambiato enormemente siamo passati da bilancio completamente meccaniche a bilancio elettroniche adesso 4.0 con le connessioni a software per creare automatismi e quindi siamo un'azienda proiettata nel futuro, sicuramente Ecco, il vostro utente finale, lo possiamo ricordare ancora una volta, qual è? Per quanto riguarda le bilance, noi lavoriamo ovunque quindi le aziende di produzione, le aziende agricole dal piccolo aziende agricole alla multinazionale quindi meccanica, chimica, farmaceutica le bilance per nostra fortuna si utilizzano un po' ovunque Per fortuna! Per fortuna! Per fortuna! Per fortuna! Grazie.